Ciao gente, io sono Michele Licati e bentornati nella mia macchina. Oggi vi presento la mia nuova dashcam, 7T May A810, in sostituzione di quella che è stata una dashcam fantastica, la Omni 360. Per chi non lo sapesse, una dashcam è una dashboard camera, ovvero una telecamera da cruscotto, un ausilio alla nostra guida che monitora e registra tutto il tempo durante la nostra guida, e non in questo caso, per darci una videosorveglianza e per andare appunto a parare quelle possibili falle nel momento in cui c'è un sinistro stradale. Per quelle possibili falle intendo che il video può essere usato, ormai appurato, in maniera del tutto legale davanti al giudice per darvi una prova in più della vostra buona guida. In questo video cercherò di rispondere anche a un po' dei vostri commenti che mi avete lasciato, sono stati tantissimi e l'ho veramente apprezzato, sotto il video della Omni 360, perché di base il collegamento rimane lo stesso. Quindi se siete già in possesso di una Omni 360 o di un'altra dashcam della Seventy May, non dovrete far altro che sostituire la cam lì perché il collegamento è esattamente identico. Hardware kit oppure kit con 4G, che vedremo fra poco. Partiamo un attimino con quello che vi offre questa cam. Partiamo col dire che questa è una dashcam completamente fissa. Non si muoverà da sola, non ruoterà su se stessa, non ha quelle particolarità che erano proprie della Omni 360. Ma di base dovrete voi spostare l'obiettivo in modo che inquadri il vostro cruscotto. L'effetto fisheye è un pochino marcato, ma è scontato, visto che riprenderà davvero tutto quello che vedrà davanti a lei. In confezione vi vengono forniti, ovviamente, oltre a tutto il kit per l'installazione, quindi gli adesivi da apporre sui vetri, anteriore e posteriore, perché io ho ricevuto, e ve lo consiglio, il kit completo che è composto da una telecamera 4K da mettere davanti e una telecamera Full HD minuscola da posizionare sull'unato posteriore per avere una ripresa combinata avanti-dietro. Una cosa veramente spettacolare. Vi vengono dati anche i soliti foglietti antistatici da porre sul vetro prima di attaccarci l'adesivo della 3M che è instaccabile. Vi assicuro che la cam regge veramente tanto e se è esattamente come quello della Omni 360, anche sotto il sole coccente dell'estate, quando la temperatura interna del veicolo raggiunge i 70 gradi, la cam rimarrà lì senza grossi problemi. In compenso, staccarla è stato complicato. Ho fatto prima, per rimuovere la 360, a togliere il foglietto antistatico con tutta la cam sopra rispetto a staccare semplicemente l'adesivo. La cosa molto comoda è che questa cam la potrete staccare e rimuovere in maniera molto semplice, perché ci sono solo delle slitte di collegamento. Come vi dicevo, la cam è fissa, quindi di base siete voi che la dovrete orientare e anche quella posteriore è sempre fissa e va orientata. Sempre per ribadire quello che c'è in confezione, oltre ai vari appiccichini, diciamo, per collegare la cam ai vetri, beh, troverete anche tutta una serie di cavi. Se non volete comprare l'hardware kit, che è il kit, vi ricordo, che vi permette di collegarla direttamente alla centralina dell'auto, vi viene fornito comunque un cavo USB-C da collegare qui di lato, molto lungo, mi sembra che siano circa 3 metri, che vi porta fino all'accendisigari e vi viene fornito anche l'accendisigari con ben due prese, una per una presa USB normale e l'altra per collegare la dashcam. Ottimo, come al solito, un ottimo comparto di accessori grazie a Seventy May. Vi faccio presente che se pensate di non arrivare all'unotto posteriore con il cavo, io, in questo momento, sono seduto su una Honda Civic Tourer lunghezza 4,60 m, più o meno, e mi è avanzato più o meno un metro di cavo. Ho percorso tutto il tettino, fino a dietro, fino ad arrivare all'unotto posteriore e tanto il cavo è avanzato. Questa cam anteriore è una telecamera 4K con un sensore Starvis 2 di Sony che fa veramente un ottimo lavoro, soprattutto di notte, quando l'immagine risulta molto chiara, nitida, estremamente leggibile. Quindi se avete paura che di notte si veda sfocato, non si veda bene, l'ho testata anche sotto la pioggia battente e vi assicuro che le immagini sono estremamente nitili. E grazie anche a questo sensore che collabora con il sistema ADAS integrato, riuscirete ad avere, non voi, la cam, riuscirà ad avere una percezione migliore di tutto quello che la circonda e quindi darvi una informazione più accurata nel momento in cui farà rilevamento di pedoni, motociclette, biciclette, macchine che si muovono avanti e in diretto rispetto a voi con ogni senza segnale possibile. E in questo caso c'è anche il riconoscimento dell'abbandono di corsia che ogni tanto è un pochino troppo invadente come suono perché la cam parla e già parla in italiano, però va calibrato e questa volta la calibrazione dura un pochino più a lungo. Ma come al solito dovrete semplicemente inquadrare il davanti facendo l'impostazione direttamente da qui dalla cam, guidare per 5-8 minuti e il sistema è a posto e funzionante. In ogni caso se comprate il kit c'è una ovvia complementarità tra le due cam. La cam anteriore fissa e la cam posteriore fissa vi daranno una percezione non dico a 360 gradi di quello che succede intorno alla vostra macchina perché mancano i laterali cosa che la Omni 360 prevedeva ma solo con un effetto a posteriori se solo se ricevevano un urto qui invece la cosa è simultanea e se pensiamo a tutti i vari tamponamenti che sono la maggior parte di quello che potrete ricevere purtroppo come sinistri stradali beh in questo caso siete copertissimi. Se eravate abituati ai piccoli schermi della Omni 360 beh qui facciamo un gigantesco upgrade per uno schermo da 4 pollici molto funzionale e nitido funzionale perché ritroviamo tutte le funzionalità descritte con le varie icone che erano proprie anche della Omni 360 ma che qui sono disposte meglio. Inoltre qui sotto abbiamo quattro comodi pulsanti fisici che ci permettono di gestire le varie opzioni di muoverci tra i menu in maniera del tutto agevole. Il pulsante di accensione così come il microfono è posizionato di qua sulla sinistra. Una cosa molto comoda che non avevamo sulla 360 sto facendo un paragone semplicemente perché quella cam mi è piaciuta parecchio e vi volevo far notare che se ho deciso di sostituire quella con questa vuol dire che l'upgrade è notevole. Qui questa cam non ha questa dash cam non ha nessuna memoria interna di suo ma supporta le micro SD finalmente perché così potremo anche recuperare i video basta semplicemente togliere la micro SD e portarla in un qualsiasi computer invece di stare lì a dover scaricare per ore perché i file sono belli pesanti visto che stiamo parlando di file in 4k direttamente dall'applicazione. L'applicazione non è cambiata. L'applicazione per connettere questo dispositivo è semplicissimo. Basta andare dentro l'applicazione cliccare sul tasto più e in automatico scansionare il QR code e si riconoscono a vicenda si riconoscono a vicenda riuscirete ad aggiungere la cam all'applicazione senza un grosso sforzo. Un'altra cosa caratteristica e molto comoda delle cam della 70 May è la modalità sentinella ovvero nel momento in cui spegnerete la macchina solo ed esclusivamente se avrete collegato la cam solo ed esclusivamente se l'avrete collegata con l'hardware kit o con il modulo 4G che è qui in mio possesso nella mia mano allora potrete attivare la modalità sentinella se la collegherete a un power bank assolutamente no. Vi spiego perché. In pratica questo kit che sia l'hardware kit o il modulo 4G vi permettono permettono alla cam di capire quando il veicolo è in moto oppure no quindi quando è acceso oppure no. Lei prenderà comunque l'alimentazione della batteria ma riuscendo a capire quando il veicolo è in movimento stacchera la modalità sentinella per andarla a riattivare nel momento in cui spegnete il motore ed estraete la chiave. Questo è fondamentale perché anche questa cam qui ha il riconoscimento delle possibili persone malevole diciamo così cioè se sosterete davanti alla macchina per tot secondi lei farà partire una registrazione di circa un minuto o comunque finché la persona non se n'è andata dall'inquadratura che è una cosa comodissima. Vi voglio ribadire che questa dashcam è una modalità di sorveglianza non è una modalità di allarme quindi in ogni caso se come mi avete scritto vi rompono il finestrino e vi rubano la cam ragazzi i video sono nella micro SD quindi se vi rubano la cam è ovvio che non avrete un deterrente non avrete neanche un qualcosa da portare davanti al giudice. se invece fate un incidente perché tamponate qualcuno per non so quale assurdo motivo se invece vi tamponano allora lì avrete un'arma molto potente che vi potrà aiutare moltissimo appunto in questa tipologia di sinistri. È ovvio è scontato che se vi rigano lo sportello oppure se agiscono lateralmente questa cam non fa proprio al caso vostro a meno che non utilizzate non lo so la telecamera posteriore invece che metterla sull'unotto posteriore non l'attaccate e la posizionate voi manualmente in modo che inquadri la parte di vostro interesse perché si può fare anche questo non necessariamente la cam posteriore deve stare dietro la potrete mettere anche qui sopra il cruscotto per inquadrare tutto l'interno della macchina. Ovvio è scontato che tutte le meravigliose funzioni timelapse modalità sentinella ritrova il mio veicolo che avevamo nell'applicazione Seventi May le ritrovate anche con questa cam in maniera più evoluta e tra l'altro in questa cam potrete selezionare perché è stato un enorme scalino questa cosa la gestione del consumo di batteria della vostra macchina qualcuno mi ha scritto che ha ritrovato la batteria a terra ora da questa cam potrete impostare senza grossi problemi l'alert relativo al consumo che non è proprio un alert nel senso la cam sarà molto più attenta a quant'è il consumo rispetto alla centralina quindi rispetto alla batteria della vostra macchina così da non scaricarvela in più potrete impostare anche un tempo dopo il quale la cam si auto spegnerà non andando a consumare assolutamente niente perché vi ribadisco che questa dash cam qui fa sorveglianza video H24 quindi registrerà H24 a meno che appunto non usufruirete di questa a mio avviso importantissima feature per cui potrete dire di spegnersi dopo non lo so 20 minuti troviamo nuovamente la funzione di rilevamento del veicolo ovvero nel qual caso aveste il modulo 4G collegato che è questo modulino qui beh potrete sapere ogni momento dov'è il vostro veicolo perché il modulo 4G comunica via satellite con appunto una rete 4G e quindi tramite la vostra applicazione potrete vedere e ricevere le notifiche di dov'è il vostro veicolo punto punto ma ciò non toglie che la cam è già dotata di GPS interno quindi rileverà tutti i vostri spostamenti e tramite l'applicazione potrete magari ritrovarla se l'avete parcheggiata in un posto dove non siete soliti abitare non lo so andate a fare una gita a Roma Milano o dove dove volete e volete ritrovare il vostro veicolo tramite l'applicazione lo potrete fare adesso vediamo a questo giocattolo qui il modulo 4G che si connette esattamente con i stessi tre cavetti del vecchio modulo 4G quindi se avete il modulo 4G o l'hardware kit vecchio della vecchia 70 May Omni 360 vanno benissimo sono esattamente quelli visto che qualcuno di voi ha trovato qualche difficoltà con le sim e dentro ci vanno solo le micro sim vi dico che io con Tim e Iliad non ho mai avuto problemi giusto per farvelo capire meglio qui sopra c'è un piccolo led che ora ovviamente è spento che vi mostra lo stato della vostra sim se è connessa oppure no la sim va inserita qui di lato e qui sopra vi viene fornito il cavetto usb della lunghezza considerevole cioè considerate che questo è il rocchetto di cavetto usb quindi questo cavo qui lo potrete tranquillamente collegare anche sul portabagagli della vostra macchina perché quelli sono altri tre metri di cavo e proprio perché quel cavo lì è molto molto lungo questo modulo deve necessariamente stare in un punto della vostra macchina dove il 4G prende non lo potrete mettere dentro e sotto la ruota di scorta perché la possibilità che non prenda il 4G è elevata potrete verificare se questo affare qui è connesso oppure no dalla lucina sopra se è rossa o se è blu lampeggiante non sta funzionando a dovere deve essere blu fissa detto questo questo qui sopra è il tasto di reset una volta collegato questo alla centralina e questo alla cam il tutto funzionerà come se fosse un hardware kit normalissimo nei commenti della omni 360 qualcuno di voi mi ha scritto che se poteva collegare la cam a appunto un power bank sì la potete collegare ad un power bank per avere un'alimentazione che duri più nel tempo ma non avrete l'effetto sentinella e soprattutto altra cosa comodissima che ci tengo a ribadire è che con il modulo 4G potrete vedere real time quello che la cam sta vedendo non solo nel momento in cui siete dentro la macchina ma soprattutto quando l'avrete parcheggiata e ve ne sarete andati magari non lo so in ufficio o in giro per la città questa è un grande vantaggio oltre al fatto che grazie al modulo 4G potrete avere degli alert in tempo reale appunto proprio quando partirà la modalità sentinella e qualcuno si avvicina al vostro veicolo vi arriverà un alert sull'applicazione e da lì potrete direttamente andare a vedere quello che sta vedendo la cam ho deciso di rispondere a qualche commento che mi avete lasciato nella Omni 360 anche qui perché ha le stesse funzionalità anche questa dashcam qui è dotata di wifi il che significa che voi potrete connettere con il telefono al wifi della cam ma la cam non si potrà connettere a nessun altro wifi è lei che permette la connessione ai telefoni non è lei che si connetta ad altro ve lo dico perché no non potrete sfruttare il wifi di casa per collegare la cam e quindi avere una connessione bypassando il modulo 4G assolutamente no però la connessione con l'applicazione quindi l'applicazione che si connette tramite il wifi del cellulare alla dashcam vi permette di scaricare i video vi permette di modificare tutte le impostazioni insomma un bel po' di cose l'applicazione merita davvero tanto c'è stata fatta una grandissima cura sull'applicazione soprattutto tramite l'applicazione e solo tramite l'applicazione potrete fare un upgrade del firmware sarà l'applicazione stessa che ve lo propone e solo tramite l'applicazione potrete andare a collegare l'hardware kit o meglio il kit 4G alla dashcam che avete già selezionato l'applicazione è un qualcosa di necessario per il funzionamento di questa cam altra cosa molto comora che per la sicurezza è a mio avviso un enorme pro è che questa dashcam esattamente come la 360 registra l'audio interno della macchina lo potrete disattivare è una funzionalità che potrete attivare e disattivare sia dall'applicazione sia dalla cam stessa ma ciò non toglie che forse magari dovrete avvisare i vostri ospiti perché a non tutti piace essere registrati come come Seventimei ci ha abituato per ogni video della dashcam e io vi consiglio di farlo potrete tenere in filigrana sia le coordinate per magari rilevazione puntuale del sinistro stradale ma anche la velocità che lei rileva grazie al sistema di satellite GPS che ha interno quindi ci sarà una certa tolleranza ma ha anche una certa affidabilità tutto questo può essere usato magari per segnalare il fatto che stavate andando entro i limiti considerate che le immagini notturne di questa cam sono davvero impressionanti se considerate che l'immagine ha solo ed esclusivamente la luce della città quindi dei classici lampioni che trovate in giro ma è bella chiara a qualsiasi ora sia del giorno che della notte direi che in Seventimei hanno fatto un ottimo lavoro veramente un ottimo lavoro è una dashcam veramente fantastica il cui costo non è tra i più accessibili lo ammetto ma se la comprerete con il codice sconto che vi lascio giù in descrizione e anche tra i primi commenti dovresti avere un 40% di sconto cosa non da poco se considerate che vi si propone tutto il kit avanti e dietro ovviamente fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate se avete avuto delle esperienze positive o negative con le dashcam mi raccomando fatemi anche sapere se vi sono state utili in caso di sinistro stradale e se avete potuto utilizzare video e immagini davanti al giudice di pace io sono Michele Licati grazie per avermi seguito ci si vede in giro non solo per il tubo ma anche in strada con le nostre dashcam ciao gente alla prossima recensione grazie a tutti